Non entri negli spogliatoi proprio per dare la carica personalmente, no? Eh, basta, no, ne ce l'ho messo, ne ce l'ho sentato proprio io, ho fatto casino, poi, beh, faccio tanto. Ah, sei pericoloso? Sì, io sono pericoloso. Ah, è meglio evitare, dai. Va bene, va bene, no, pensavo che invece... No, no, perché la punizione stava da stupido, si poteva evitare, stava a spallare la porta, questo, dopo che è andato... Cioè, niente, non commenziamo, dai. È meglio, è meglio. Il problema è che l'ha fatto pure le persone stesse, dico, no, io pensavo che il ragazzino va bene, ma tu, dai, da coglione che sei, sai che stai a spallare il muro, che cazzo va a fare la punizione? Me la sono cercata io, Gigi. Sento voci femminili, sei in dolce compagnia. No, 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 sono in compagnia di mio figlio, altri dirigenti, stiamo tornando a suonare adesso a campi, perché, come ti dico, abbiamo giocato su un campo di comunale di Squintano, che è l'Enel-Leccia. Purtroppo, l'albitro vede così, ecco, mi dice la donna di dire, faccio addio. Faccio addio. Comunque, Sandro, mi dai qualche altro risultato? Sì, 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 sì. Bene così, bene così, Sandro. Se hai bisogno di me, sono a tua disposizione, lo sai. Sì, ma io sono sposato, però, Francesco. No, no, Sandro. Mi piace dal punto di vista giornalistico. Ah, scusami, scusami, va bene. Voglio dire. Peccato, peccato, per poco, ma... E' la seconda volta che va a giocare, è caduto di nuovo l'altro. Stavamo perdendo due a uno, e non siamo segnati. Cioè, due pari. Comunque, ufficiale, privilegio, sto sentendo che il cancello che gli sta prendendo ha abbandonato il campo. Le stesse gruqui. Sì, io sono pericoloso. Cioè, proprio, nel momento in cui ha detto Luigi Castanito, tira e molla, noi abbiamo segnato. Tira e molla. Come sempre, tira e molla, noi stessi che ora gli passiamo la palla. Sì, sì. Stavatore, com'è finita? È finita. Io sono sulla strada di ritorno. Abbiamo vinto sia a due, soffrendo un pochettino nel finale, però, abbiamo anche sbagliato sia la quarta che la punteria. Abbiamo avuto un sacco di occasioni per chiudere definitivamente. Comunque, sul suo finale, campi due, le verano tre. Vogliamo ringraziare io, come le con Mari del Gollo, vorremmo ringraziare i ragazzini tifosi che ci hanno ascoltato fino alla macchina con dei cori... No, carini, con dei cori carini, diciamo. Immagino. E ci è piaciuta l'intonazione con una parola, l'orde, l'orde. L'orde, vogliamo ringraziarmi perché sono stati carinissimi, eh. Io, anche a fuori al canacolo ci sono accompagnato, ci scoti. Ragazzi da altri tempi, oserei dire. Sì, ce l'ho fatto talmente tanto piacere, non ci è divertito mai così da... Non c'è pure l'ansia partita del tuturano. Sì, infatti, mi dicono le con Mari del Gollo, da oggi davanti seguiremo il tuturano, se abbiamo questa accoglienza scortata. Quindi è nato un gemellaggio, possiamo dirlo? Sì, 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 è nato un gemellaggio. Quando ci chiamano Lorde, poi abbiamo dovuto andare sul volo tapolare a cercare, perché io non mi avevo montato alla testa, pensavo che ci disessero Lorde. Invece poi abbiamo capito che ha il linguaggio italianizzato di Lourdes. Va bene, salutiamo allora le Lourdes e voglio dire le Comari del Gol. Grazie. Anche il Roy, a domenica prossima. Grazie. Sì, io sono pericoloso. Bene, anche a te. Ciao, ci sentiamo domenica prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao.